Da quasi dieci anni il Centro di Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari in Via Petrarca nel quartiere Muraglia di Pesaro ha visitato e monitorato migliaia di cittadini della provincia di Pesaro Urbino delineandone gratuitamente profili di rischio rivolti alla prevenzione all'infarto e all'ictus calibrati su ogni singola persona e sui risultati delle rispettive analisi del sangue. Un lavoro coordinato dalla Fondazione per la lotta contro l'infarto istituita dal professore Ernesto Sgarbi che ebbe uno stop forzato dalla pandemia e che ora ha recuperato gran parte delle visite in lista d'attesa tornando a dare la possibilità a tanti cittadini di godere di un prezioso screening con visite effettuabili in tempi brevi rispetto alle prenotazioni. Abbiamo la possibilità di testare chiunque voglia conoscere il proprio profilo di rischio cardiovascolare. La cosa interessante è che nella regione Marche è l'unico centro che può fare questi controlli. Quindi qualsiasi cittadino voglia conoscere il profilo di rischio può venire tramite un appuntamento con la segreteria a valutarlo. Facciamo un test molto importante per l'esclusione della fibrillazione atralesilente che vuol dire la persona non si accorge e porta con sé questa alterazione del ritmo in il quale l'atrio batte in modo molto caotico. Questo è molto importante perché se il riempimento vascolare ventricolare non è perfetto anche in periferia il sangue non arriva e si rischia l'infarto che può essere di qualsiasi organo però noi ci concentriamo solamente e soprattutto su quello cerebrale e quello cardiovascolare coronarico. Poi facciamo qui con le nostre macchinette dei test molto veloci, prendiamo il sangue dal dito, poche gocce, l'importante è che la persona sia a digiuno e valutiamo i parametri del profilo glicolipidico, quindi colesterolo totale, il buono, il cattivo, i trigliceridili e zuccheri. Poi con la parte infermieristica, peso-altezza-pressione, se con delle domande, se fumano i farmaci che prendono, facciamo un quadro generale, calcoliamo l'indice di rischio cardiovascolare. Noi rivediamo le persone anche a distanza di tempo e ci fa molto piacere quando vediamo che le persone hanno preso sul serio la cosa, si sono impegnati nell'attività fisica, nel cambio dell'alimentazione dove noi diamo qui dei consigli e ovviamente questo è un traguardo, il traguardo che vogliamo raggiungere, avere una popolazione più sana. Le persone un pochino più recidive ovviamente le rivediamo, insistiamo, dove riusciamo a penetrare e a comunicare, noi siamo molto contenti anche perché dedichiamo una mezz'ora a tutte le persone. Questo lavoro lo facciamo anche nelle scuole, quindi c'è un progetto scolastico che si chiama Progetto Cuore Scuola, a tutt'oggi abbiamo fatto circa 18 mila alunni, sempre con il permesso dei genitori, parliamo di ragazzi studenti che vanno dai 14 ai 18 anni, fanno le analisi del sangue e solo il colesterolo all'interno delle scuole in accordo con i direttori diciamo scolastici, dopodiché il controllo, il risultato viene dato in busta chiusa ai genitori e con l'invito di venire in centro, al centro di prevenzione a fare ulteriori test nel caso in cui si riscontrano delle anomalie. Questo è una cosa molto bella che stiamo facendo e facciamo circa mille alunni all'anno su tutta la provincia di Pesaro. Da anni sostenuta dai preziosi finanziamenti di Banca di Pesaro, la Fondazione dà la possibilità di aver cura del proprio cuore gratuitamente offrendo visite ogni martedì e giovedì su prenotazione. Chiunque voglia conoscere il proprio profilo di rischio può telefonare in segreteria il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 facendo lo 0721 54221. La segretaria darà tutte le indicazioni per come venire a fare il controllo, quindi sicuramente è stomaco vuoto perché sono analisi. Questo non è un centro cardiovascolare, quindi noi non facciamo elettrocardiogrammi, noi ci atteniamo solo a valutare il profilo di rischio di ogni cittadino che sta bene e vuole conoscere che strada sta percorrendo.